Ciao a tutti, ho ricevuto diverse mail, io ho troppe mail da leggere ragazzi, se non vi rispondo perdonatemi siete in troppi, però ogni tanto penso di riuscire a leggerle quasi tutte e me ne sono arrivate diverse che pongono lo stesso quesito. Quindi dato che se rispondo a uno mi dispiace non rispondere eventualmente agli altri per mancanza di tempo, io farò un video che può essere d'aiuto a tutti questi maturandi che mi chiedono info, no? Perché molti di voi che stanno per affrontare la cosiddetta e temuta maturità vogliono improntare la loro tesina sul trash e io mi immagino i poveri professori che s'aspettavano le solite tesine tutte uguali e invece arriva il trash a dominare, entreranno tipo, uscirà un articolo su il giorno con scritto la tesi sul trash, l'ultimo trend in Italia, ecco non lo so. Comunque niente, io vi ho risposto con un video perché penso che può essere anche un video simpatico da fare e che eventualmente può esservi d'aiuto. Naturalmente sono spunti quelli che vi offro, vi consiglio assolutamente di non copiare quello che dico, anche perché al professore non ci vuole niente a dire ah ah beccato da qui, però posso darvi degli spunti di riflessione. Allora il trash, come abbiamo visto, è un argomento molto vasto, quindi cercate di capire su che tipo di trash volete concentrarvi. Trash letterario, trash musicale, trash cinematografico o trash in altri ambiti, oppure il trash in generale. Io cerco di dare un'impostazione in stile trash generale, ecco. Nel caso vi serva, vorreste fare una recensione, una tesina, sì esco perché prendo il libro che mi è venuto in mente, una tesina sul trash cinematografico. Vi consiglio come bibliografia questo libro che è La piccola cinetica degli orrori. Gli autori sono Maglio Gomarasca e Davide Pulci, tutti film che i fratelli Lumiere non avrebbero mai voluto vedere. E in sostanza è non un saggio, più che altro un dizionario sui B-movies, quindi film di serie B, però a livello underground, quindi ben oltre John Waters, che John Waters è pop alla fine, no? Si guarda il trash cinematografico in tutti gli ambiti. Era un libro che era stato sponsorizzato da Nocturno. Nocturno è una rivista di cinema splatter che io leggo, mi piace, ed era un libro uscito per quello. È carino, è carino. Può essere un buon punto, un approfondimento per chi vuole intraprendere il trash cinematografico. Per chi invece vuole intraprendere un percorso di tesina a livello di trash in generale, vi consiglio, come bibliografia essenziale, assolutamente i libri di La Branca, Tommaso La Branca, che purtroppo sono poco reperibili, ma che si trovano anche in biblioteca facilmente. E mi hanno detto alcuni che Andy Warhol era un coatto, vivere e capire il trash, è comunque presente in PDF gratuito, perché immagino che ora sia diventata un'opera no profit, non lo so, sono data fuori catalogo comunque. Quindi affidatevi o a mercatini dell'usato o a biblioteche, però è importantissima. Vi ho fatto anche un video a riguardo, è Andy Warhol, Vivere e capire il trash di Tommaso La Branca, dove l'autore fa una distinzione tra kitsch, camp e trash e spiega perfettamente cos'è il trash. È una lettura molto veloce, molto leggera e allo stesso tempo interessantissima. Altri libri che vi consiglio, li ho già affrontati, ve li ho già parlato, sempre di La Branca, Cialtronescon, e di, era un mix di autori, Star Trash, le guerre spaziali del trash, ve ne ho parlato nel video Trash and Dance. Quello si basa principalmente sulla letteratura trash, comunque tutti i titoli sono qua sotto. Ma oltre a La Branca, io vi consiglio anche un saggio, che è il Trash Sublime di Slavoj Zizek, è uscito per Mimesis, che è una casa editrice che si occupa principalmente di filosofia, è un librettino, si legge molto facilmente, è anche molto economico perché costa 4,90 euro e tuttavia è un libro bellissimo. A me piace molto Zizek. C'è chi ha dei sentimenti controversi nei suoi confronti, non da tutti amatissimo, è un filosofo che fa molto discutere perché ogni tanto fa parlare di sé con le sue uscite, no? Il Trash Sublime si basa principalmente sul discorso artistico, quindi arte contemporanea. Quindi dovete capire voi da che parte andare. Per quanto riguarda i collegamenti, io non so come funziona nella scuola di oggi. Quando avevo fatto la tesina io, ero stato un mago nel trovare collegamenti a raffica. Ad esempio, io avevo fatto la tesina sul cinema surrealista e nouvelle vague giapponese e ero riuscito a trovare dei collegamenti ovunque. Allora, ad esempio, io avevo trovato, non copiatemela perché me ne accorgo, io avevo trovato come collegamenti, ad esempio in latino avevo collegato Oedipo, la tragedia Oedipo, perché c'è un film, Funeral Pared of Roses, che è una rimodernizzazione dell'Oedipo in chiave queer. Poi avevo collegato Herman Nietzsche in arte, perché c'è un film di Wakamatsu con una crocifissione che viene richiamata da Herman Nietzsche, eccetera, con tutto il discorso di sacrificio, di rituale. Quindi io trovavo i collegamenti così. Per quanto riguarda il trash, collegamenti riferiti al percorso scolastico del liceo è bella tosta, però ce la potete fare se siete un po' sbarazzini come me. L'importante è innanzitutto verificare se i vostri professori ve la lasciano fare. Da noi, quando ho fatto la maturità, io funzionava che almeno due materie le dovevi collegare e non sgarravi da lì. Quindi io vi consiglio due materie che possono fare al caso vostro. Ad esempio, in letteratura italiana, voi potete parlare dell'estetismo, quindi D'Annunzio e tutti gli altri che l'hanno copiato, perché se voi leggerete la branca vi accorgerete che il trash è emulazione di un modello. D'Annunzio lancia il via, dal via a una totale emulazione di un modello, ci sono tantissimi libri sulla scia del piacere che sono mediocri e non vengono studiati a scuola perché pur essendo dei classici erano proprio fatti con lo stampino. Potete improntare il discorso sul trash editoriale anche parlando degli albori dell'idolatria letteraria. Ad esempio, non lo so, il Giovane Werther e tutti gli emuli che ne sono venuti. Il Dolori del Giovane Werther è un ottimo esempio per capire come il marketing del libro avesse già iniziato ai tempi di Goethe a creare dei topos e a spandersi al di là del libro stesso. Infatti del Giovane Werther erano stati realizzati anche dei vestiti, profumi. Assurdo pensare che è una cosa di ormai diversi secoli fa. Eppure si faceva, sembra il tipo di marketing che c'è adesso per certi versi, ben al di là del prodotto. È proprio un brand, quindi Dolori del Giovane Werther. Però D'Annunzio secondo me è un ottimo collegamento proprio a livello di estetica, anche per il tipo di letteratura che lancia, perché poi voi potete collegarvi a Liala, perché Liala è stata amica di D'Annunzio e per certi versi, per quanto sia una letteratura totalmente diversa, è barocca, è estetica Liala. Quindi voi potete fare un collegamento astruso per parlare di estetismo, quindi D'Annunzio, che dà il via a Emuli in modo da avere un riferimento preciso a livello storico. Oppure, se volete parlare di marketing editoriale, commerciale, il Dolori del Giovane Werther può essere un riferimento carino. Però, secondo me, l'estetismo funziona. Così vi collegate anche alla letteratura straniere, no? Perché un'altra cosa... C'è ad esempio La Fosca, che è un altro classico che sicuramente studierete, che invece, che proprio prendeva in giro, era una parodia, una parodia su questo tipo di romanzi, che erano fatti con lo stampino dopo il successo di D'Annunzio, no? Così vi potete collegare anche alle letterature straniere, non lo so, da una parte Oscar Wilde, dall'altra parte Wisman con Controcorrente, o il decadentismo, queste cose qui, no? Se volete parlare di modelli precisi, no? Di movimenti con modelli precisi, e che quindi portano a delle rappresentazioni mediocre di un modello alto, se volete puntarla sulla branca. Un altro collegamento ideale è naturalmente Storia dell'arte, dove potete parlare di tutto, praticamente. Ad esempio, Piero Manzoni, La merda d'artista, fondamentale, sul cambiamento del concetto dell'arte nel Novecento, e quindi qua il saggio di Zizek fa il caso vostro. Piero Manzoni in primis, poi Andy Warhol e tutta la pop art, la cultura pop nell'arte, e quindi non solo Andy Warhol, ma anche negli anni successivi Jeff Koons, o anche Cattelan, o anche... Chi è che si può trattare anche? Cattelan, Jeff Koons, ce n'è di roba, ragazzi. Molta arte contemporanea potete usare, anche per certi versi Yves Clan. Sì, però io punterei principalmente sull'arte pop, perché è quella più immediata da collegare, e probabilmente la farete in Storia dell'arte, in Quinta Liceo, il Novecento in generale. Se non arrivate all'arte contemporanea, voi potete comunque collegarla, secondo me, con le avanguardie, e con la crisi del concetto di arte, e quindi la messa in discussione dell'arte, e quindi, ad esempio, collegate il dadaismo con Marcel Duchamp, M.R.A., quindi la trasformazione del... è il ready-made, è l'oggetto basso che viene trasformato in arte. È un altro tipo di... è un altro modo di intendere il concetto del trash, no? Quindi cultura pop, per certi aspetti. Quindi arte e letterature le potete collegare in tutti i modi possibili, secondo me. Se volete fare i leziosi, potete anche collegare in matematica, perché, se avete ascoltato la mia recensione di Labranca, c'è l'equazione del trash, quindi è l'equazione matematica del trash, quindi potete collegare le equazioni, ciaoone, no, è un po' ardito come collegamento, non so se consigliarvelo, e poi potete collegare anche benissimo filosofia, no? Se potete fare anche un collegamento a una materia del fuori programma, già Zizek, il filosofo che vi ho detto, è un ottimo fuori programma. Altrimenti, no, no, è troppo, è troppo. Volevo consigliarvi Galimberti con i miti del nostro tempo, ma è troppo, è troppo fuori tema. Io vi do questi consigli, potete, poi ovviamente, semplificatela, non dovete fare una tesi di laurea molto stretti, vi leggete Labranca, ci lavorate bene, ovviamente chiedete info al vostro professore, innanzitutto dobbiamo vedere se effettivamente ve la lasciano passare una tesina del genere e poi dovete essere, dovete creare dei collegamenti solidi, dovete riuscire a farlo. Io ce l'avevo fatta, pur di parlare di Nouvelle Vague giapponese, voi ce la potete fare col Trash, è molto più semplice da collegare, pensate bene. Potete fare anche dei collegamenti, dei collegamenti anche per le opere. Se voi parlate di un'opera Trash, non lo so, ad esempio, volete fare un discorso letterario, prendete After, per dire, non lo so, After, quindi il bello e cattivo e la damigella, timorata di Dio, questo confronto stile bella alla bestia. Se voi avete affrontato delle opere letterarie di questo tipo, potete collegare le opere letterarie affrontate in classe e creare un discorso sul modello di narrazione che rimane identico, no? E che viene emulato per creare una cosa più mediocre. È interessante. Io ho cercato di darvi un po' di stimoli. Probabilmente questo video è stato abbastanza inutile, però quello che volevo fare era dirvi che in verità se si sa come parlarne, fare una tesi, una tesina, un argomento, ovviamente va sviluppato bene, però bisogna sapere come parlare degli argomenti. Io vi ho dato degli stimoli proprio ad attaccarvi. Non vi ho detto cose troppo precise perché non voglio che voi copiate un modello. Cioè dovete svilupparla voi come ve la sentite. Anche perché il trash è un argomento molto vasto. Quindi o ne parlate in modo molto generico oppure parlate bene di un aspetto in particolare, che sia quello editoriale, cinematografico, musicale. Fate dei collegamenti con quello che avete studiato a scuola. Se potete fare dei collegamenti fuori tema, ma mantenendo la materia siete ancora più liberi. Quindi io vi ho detto questo. Fatemi sapere se è stato d'aiuto questo video. Io vi saluto e alla prossima. Un bacione. Ciao ciao. Incredibile. La tesina sul trash. Siete fuori.